Grazie signor Presidente. Dal 6 all'8 dicembre in una riunione, un incontro che si terrà qui al Parlamento per iniziativa dell'Adle e in collaborazione con i radicali transnazionali si discuteranno di queste cose dove penso quel che manca è qualche idea forza nuova. Forse c'è presunzione in questo ma vorrei signore della Presidenza in esercizio, signor Commissario Frattini, anche lei Presidente, pregarvi personalmente, invitarvi personalmente come istituzioni a non far mancare la vostra attenzione. Il problema che stiamo trattando, il voisinage, il vicinato, adesso questa nuova lodevole iniziativa finisce sicuramente poi ancora una volta in un appesantimento velleitario burocratico. Lisbona, ma anche Barcellona e tutto il resto. Il Presidente Prodi ebbe a dire nel presentare il voisinage tutto fuorché le istituzioni. No, il problema è diverso. Lei, Commissario Frattini, ha detto che noi abbiamo bisogno nella nostra area di lavoro, di capitale di lavoro. Il problema storico non è questo. Noi siamo sufficientemente antropizzati, mentre dall'altra parte del Mediterraneo c'è bisogno di capitale, capitale del lavoro di impresa, come Israele ha fatto a lungo anche per il suo deserto finanziario. Quindi il tempo sta concludendo. Vi prego davvero di annotare questo appuntamento, di tenere presente che il problema, il vizio è il partenariato, è il problema della membership. Anche l'Europa non sarebbe nata se si fosse limitata come si voleva al cammino del partenariato. Il problema è che la nostra Europa abbia i limiti, vi farò conoscere. Nel 1987 il sultano Assandue del Marocco ci dava la soluzione. Vedremo di lanciarla contro la cecità europea. Grazie.